Credi che Elisabeth sia qui? Per cercarla un posto vale l'altro. E poi è il luogo migliore per cercare i signori dei pirati. Prendetelo! Preparati ad affrontare uno dei migliori! Preparati! Ti spudellerò e ti darò in... Preparati ad affrontare un... Puoi chiedere aiuto? Forse se io chiudessi gli occhi avresti una piccola possibilità! Sei quasi morto! Caldo! Implora pietà che serva a qualcosa! Cosa! Stai andando bene! Continua così! Mi piace vedere piangere i pirati canaglia come bambini! Di che non ne resterà abbastanza neppe! E poi i giudici da pirata stanno per concludersi dolorosamente! Mi piace vedere piangere i pirati canaglia come bambini! Farti male sarà un piacere! Non vedo l'ora di... ... 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 Ah, che avversario scadente! Devo farti fuori in fretta o vomiterò dal disgusto! Scoprirai il dolore e la morte, in quest'ordine! Capitano Jack Sparrow, sapevo che saresti tornato! La regina d'Inghilterra non è bella! La regina d'Inghilterra non è bella! La regina d'Inghilterra non è bella, non è bella! Non è bella, non è bella! Cosa? Ma non è bella! Sì, sì, sì. 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 Non vedo l'ora di farti affettire. Sì, sì. Sì, sì. Signora Ching, da quanto tempo... Edoardo, ti spiace liberarmi da questo giovane messaggero? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.